Il bello della cosa è che ogni parcheggio viene ristretto solo di 30 centimetri, indistinguibile ad occhio nudo. Ma è proprio qui che sta il gioco. Donnazione, donna, hai parcheggiato troppo vicino, sposta la macchina. Sono entro le righe, se hai un problema raccontala a mamma. Oh, non preoccuparti, lei verrà a saperlo. Non posso uscire! Sono intrappolata!